Imponevano carta, scatole, buste ai commercianti del mercato di Santa Scolastica al quartiere Carrassi di Bari. Gli ambulanti erano costretti a comprare dal clan Diomede i prodotti per il confezionamento del cibo a prezzi più alti, nonostante fossero di bassa qualità. La polizia di Stato di Bari ha arrestato quattro persone appartenenti al gruppo criminale Diomede, ritenute responsabili a vario titolo di estorsione aggravata e di evasione dagli arresti domiciliari. Si tratta di Francesco Diomede, 46 anni, Giovanni Sedicina, 35, Francesco Ungredda, di 51, Vito Magistro, 20 anni, tutti con precedenti penali. Gli arresti seguono le operazioni portate a termine lo scorso 18 febbraio e lo scorso 7 luglio, con l'esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sette persone, tra cui due sono destinatari anche della nuova misura restrittiva. Le indagini degli uomini della squadra mobile, supportate da attività tecniche riscontrate dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, nonché da quelle delle stesse vittime, hanno consentito di accertare la realizzazione in modo pianificato e sistematico da parte di esponenti del Cagno Mede di estorsioni nei confronti dei commercianti, costretti ad acquistare prodotti di consumo ad un prezzo maggiorato e qualitativamente inferiore, determinando un danno economico e privandoli della possibilità di ogni libera trattativa sull'acquisto. Abbiamo colpito ancora una volta il clan di Omede e questa volta siamo penetrati nel mercato di Santa Scolastica e abbiamo documentato come dal 2009 il gruppo di Omede imponeva il pizzo, questa volta sotto forma di imposizione di prodotti che tutti i commercianti del mercato erano costretti ad acquistare, dichiarato il capo della squadra mobile di Bari, Luigi Rinella.